gentili telespettatori buona giornata incredibile ma vero dal primo gennaio in poi le famiglie italiane spenderanno 1400 euro in più all'anno solo pensate un po di luce e di gas le bollette ormai sono alle stelle ma sono dei servizi quasi insostituibili senza la luce non funziona neanche il frigorifero non funziona più il telefono non si può accendere la televisione il computer non potete caricare il cellulare il gas senza il gas non si può cucinare diceva beh utilizzo il microonde utilizzo un fornelletto elettrico ma la luce è salita di più del gas è senza quasi senza via d'uscita dopo i record di quest'anno che hanno portato un aumento un aumento di 9 miliardi delle bollette se noi facciamo vediamo se riusciamo a fare una una un calcolo e facciamo 9 miliardi di aumento diviso un calcolo così è diviso 60 milioni di italiani 9 miliardi di aumento diviso 60 milioni di italiani viene fuori 150 euro per ogni italiano bambino nonno di media in più nel 2021 ogni italiano ha speso tra luce e gas 150 euro in più naturalmente non sono 60 milioni di italiani che hanno avuto l'aumento ecco bisognerebbe dividere per 3 4 per famiglie eccetera eccetera ma quest'anno comporta un aumento di almeno 1400 euro almeno 1400 euro a famiglia diviso 12 mesi comporterebbe un aumento addirittura di 116 euro al mese tra luce gas al mese uno stipendio all'anno se ne va solo per le bollette qualcosa di assolutamente incredibile il gas e la luce crescerà di un altro 55 per cento e il gas di un altro 41,8 per cento ma attenzione questi aumenti sono solo per il primo i tre mesi gennaio febbraio e marzo sapete che vengono fatti dei contratti di acquisto che durano tot mesi quindi si compra si fa un contratto per la luce per il gas per i tre mesi poi dopo tre mesi scade il contratto c'è un nuovo aumento e il prezzo di nuovo sale per questo che si parla di aumenti per i primi tre mesi dell'anno arera l'autorità di regolazione per l'energia reti e ambienti ha comunicato i nuovi prezzi per i consumatori in tutela nel primo trimestre del 2022 dal primo gennaio la bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo in tutela sarà del più 55 per cento mentre per quella del gas del più 41,8 per cento aumenti che scattano malgrado gli interventi del governo spiega l'autorità precisando che gli incrementi record delle materie prime avrebbero portato ad aumento del 65 per cento della bolletta dell'elettricità e del 59,2 per cento di quella del gas in termini di effetti finali per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia tipo nell'anno compreso tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo del 2022 sarà di circa 823 euro possiamo parlare degli ultimi 12 mesi non dell'ultimo anno ma degli ultimi 12 mesi 823 euro mentre con una variazione del 68 per cento rispetto ai 12 mesi equivalenti l'anno precedente un incremento di circa 334 euro all'anno beh gli effetti sul lungo periodo quali sono un'ondata di rincari di prezzi e tariffe a danno dei consumatori si rischia una stangata a parità di consumi pari a circa 1200 euro a nucleo familiare nel corso del 2022 lo sottolinea il codacons ma tenete presente che l'aumento di luce gas non è solo la bolletta che avete a casa ma visto che queste bollette le pagheranno anche le aziende i prodotti finali verranno aumentati di prezzo per coprire i nuovi costi di energia i prezzi più alti finiranno negli scaffali nei negozi con prodotti più cari quindi voi non avrete solo l'aumento della luce del gas ma troverete anche al supermercato e negli altri negozi i prodotti più cari perché commercianti e produttori i nuovi costi di luce gas non è che li assorbono li scaricano sul cliente finale se un se l'elettricità di all'azienda costa il 20 per cento in più sui costi totali aumenta del 20 per cento il costo del prodotto l'intermediario lo paga il 20 per cento in più e lo scarica sul consumatore finale un 20 per cento in più gli aumenti delle bollette di luce gas manterranno l'inflazione attorno al 3 per cento nel corso del 2022 causando una stangata per gli italiani pari a 1197 euro e annui a famiglia una situazione particolarmente pericolosa perché a fronte dell'ondata di rincari in arrivo le famiglie reagiranno contraendo i consumi con immensi danni per l'economia nazionale che cosa vuol dire che se voi spendete 116 euro in più al mese per le bollette quei 116 euro che spendete per le bollette non li spendete per altre cose quindi non comprate non andate in pizzeria non vi comprate il maglioncino nuovo eccetera eccetera e quindi il potere di acquisto delle famiglie e delle persone diminuisce e se diminuisce il potere di acquisto significa che diminuiscono anche i fatturati delle aziende e dei negozi quindi è un ciclo aumenta l'energia elettrica aumentano i costi aziendali aumentano i costi dei prodotti diminuisce il potere di acquisto gli italiani comprano meno prodotti le aziende fatturano di meno licenziano le persone chiudono i battenti sono i cicli economici questi bene grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie grazie